Sono venuto da Arezzo perché è una piazza importantissima e per me era un'opportunità importante e ho bisogno di quello stimolo anche che può portare a una piazza esigente. Sotto l'aspetto della squadra sono arrivato oggi quindi sicuramente mi troverò bene, contro tanti ragazzi ci ho giocato contro molte volte e non sarà un problema. Spero di dare il mio aiuto per raggiungere l'obiettivo che è stata chiesta alla squadra quindi vediamo di far subito bene da domenica. A Rieti ho fatto tre anni e mezzo importantissimi, infatti non smetterò mai di ringraziare la tifoseria di Rieti, la città che mi ha sempre accolto benissimo. C'è stato tanto affetto sia da parte mia che da parte loro. Però poi è arrivata questa opportunità di Arezzo che è un blasone importantissimo. Per me in questa categoria non c'entra nulla quindi ho colto l'occasione maturata. È stata abbastanza veloce come cosa, con una decina di giorni abbiamo aspettato il mercato che iniziasse. Intanto nel frattempo mi sono messo d'accordo con Rieti con il quale mi sono lasciato molto bene anche la società, ci siamo venuti incontro. Io penso che l'Arezzo siamo secondo me almeno sulla carta la migliore rosa, penso. Poi è ovvio che nel campo bisogna dimostrarlo. La Serie D è un campionato duro perché comunque ci sono tante squadre organizzate che hanno entusiasmo. Poi quando affrontano l'Arezzo tutti danno quel qualcosa in più e sta a noi rimettere in carreggiata la classifica e rimetterci a posto. Sì, io metterò a disposizione le mie caratteristiche che sono sicuramente quelle di corsa, inserimento, grinta. Una cosa che mi ha contraddistinto in tutta la carriera e in ogni piazza dove ho giocato. Mi sono fatto quasi sempre voler bene, quindi metterò a disposizione tutta la mia esperienza e dobbiamo per forza rimetterci al passo con le prime della classe.